Il Parco archeologico di Pestum ha prontato il suo piano delle gratuità per l'anno 2019. Le grandi novità di Pestum saranno l'ingresso gratuito al museo e l'area archeologica tutti i giovedì, da marzo a dicembre, dagli ore 18 alle ore 19 e 30 e anche il 15 giugno, festa del Santo Patrono, e il 3 dicembre, giornata internazionale della disabilità. Il Parco inoltre darà attuazione alle disposizioni ministeriali in materia di giornate a libero accesso, garantendo l'ingresso gratuito nelle prime domeniche del mese, da ottobre a marzo, e nella settimana della cultura dal 5 al 10 marzo 2019. Il Parco archeologico di Pestum ha cercato di sfruttare al massimo le potenzialità concesse dalla forma di gestione autonoma, di cara il direttore Gabriel Zuchtriegel. È stata così definita una peculiare strategia promozionale, che tiene conto delle esigenze degli utenti e dell'ambito territoriale di riferimento. Con questo piano di gratuità, la nostra volontà è quella di far diminuire Pestum uno scenario attivo, capace di stimolare e costruire sempre nuove forme di inclusione e accessibilità dal forte valore sociale. Ci siamo immaginati il museo come un agora, una piazza di incontri e confronti, allietati da momenti di convivialità e diletto. Il Parco archeologico di Pestum sta oramai da diversi anni, perseguendo questo legame con il territorio e con i suoi pubblici locali su più fronti. Il biglietto annuale Pestumemi, ad esempio, si pone quale strumento preferenziale per vivere Pestum ogni giorno, al costo di un biglietto del cinema, a sostegno della campagna di comunicazione per le aperture gratuite pestane. È stato lanciato l'hashtag Io vado a Pestum, che riprende quello ideato dal ministro nella campagna istituzionale nazionale. Il decreto MIBAC, come da regolamento già in vigore, conserva tutte le gratuità per i minori di anni 18, per le scolaresche, per alcune tipologie di studenti e docenti, oltre che per altre categorie protette, come diversamente abili. inoltre riduce a 2 euro il biglietto ai giovani dai 18 ai 25 anni e non più alla metà del titolo di accesso intero.